Si sono date appuntamento al tramonto davanti il Teatro Politiama di Palermo, ma già dal tardo pomeriggio erano molte le donne in piazza in attesa dell'inizio della manifestazione di solidarietà in difesa dei diritti delle donne iraniane, vittime di un regime che nel corso degli anni ha prima prevaricato e successivamente annullato le aspirazioni e sogni di intere generazioni di donne. Il velo islamico come obbligo, pena la morte, già causa dell'uccisione di numerose donne iraniane, una raffigurazione medievale che nella città, patria dei diritti, ieri sera è stata contestata con la forza che solo la partecipazione può esprimere. Migliaia le donne a Palermo, coperte dal velo, in solidarietà delle iraniane, vessate quotidianamente da questa imposizione inaccettabile ai giorni nostri. Una manifestazione a partitica e a politica, ha sottolineato la organizzatrice Lavinia Sposito. Stanno aderendo in tanti, c'è gente che viene da Marsala, ci sono iraniani che vengono da Marsala, abbiamo donne da Caltanissetta, donne da Castel Termini, cioè un po' tutta la Sicilia sta aderendo. A parte tutte le tante associazioni palermitane che parlano e che portano avanti sempre battaglie di diritti e di aiuto che si occupano di sociale per i bambini o per le donne abusate, comunque sono tutte associazioni che credono insieme a tutte noi in questa reale battaglia per la libertà. Tante le organizzazioni umanitarie in piazza, da Amnesty a Meteollus. Noi scendiamo in piazza ogni qual volta il diritto di protesta e i diritti umani vengano violati. In questo caso noi stiamo scendendo in piazza per far sì che il diritto di protesta venga tutelato e affinché venga fatta luce su quello che è successo a Marsala, a Amnesty, rispetto a quella che è la sua vita che è stata uccisa in difesa dei diritti umani, perché lei stava semplicemente facendo quello che stiamo facendo tutti in questo momento. Anche Meteollus ovviamente aderisce alla manifestazione. Meteollus in piazza al flash mob per Women Freedom Iran. Siamo solidali con le donne iraniane, con tutte le donne del mondo che subiscono violazioni, costruzioni. Dopo l'uccisione di Masha a Tehran, l'Iran, le stesse donne anche affiancate da uomini hanno deciso di ribellarsi. Abbiamo aderito a questa manifestazione, non sono da sola, sono con Egle Mazzamuto, c'è Gerusa Barus e daremo questo nostro contributo artistico proprio per ricordare queste donne che sono state uccise in maniera impietosa secondo una morale incomprensibile e siamo qui a ricordarle e a ricordare a tutti che i diritti vanno sempre tutelati. La mia presenza quindi ritengo sia fondamentale, è una presenza autonoma, io sono un avvocato, mi occupo molto di diritti delle donne vittime di violenza di genere e la vicinanza a queste ragazze la sento davvero anche con commozione, con grande commozione. La morte di Saman in Italia è anche la morte di tutti noi. Il problema non è portare il velo o non portare il velo, il problema è l'obbligo di portare il velo. Di Iran ha parlato anche un iraniano residente in Italia. Basta pensare che questo regime in questi 43 anni solo ha portato guerra, fame, problemi per giovani, tante persone che hanno dovuto scappare e più umiliazione, soprattutto umiliazione per le donne iraniane. Mi commuovo però mi scuso che è più forte di me.